Buongiorno, ben trovati. Primo appuntamento del nuovo anno del 2020 con la nostra rassegna stampa. Mattino 6 che si apre come sempre con la lettura delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, ovviamente dalla nostra redazione. L'augurio di un buon anno, di un buon 2020. Iniziamo come sempre con le prime pagine del centro. Partiamo dal quotidiano d'Abruzzo. Un fatto grave di cronaca ha tenuto banco proprio nelle ultime ore. Vedete il titolo. L'ite nel palazzo ucciso di botte. Pescara omicidio a Ranciteli. Fermato un uomo, il movente, la droga. Vedete il titolo. Vediamo anche le altre notizie. Pescara sopra al luogo. Ieri mattina del sindaco di Pescara, Carlo Masci, Porto. La discarica, detto il primo cittadino, va eliminata. Restiamo a Pescara. Danni alle scuole per la grandinata del 10 luglio scorso. In arrivo 3 milioni di euro. E poi Pescara due giorni di feste. Capodanno, folla nei locali e nei concerti che si sono tenuti all'aperto. Giovane muore in hotel dopo il veglione. Un'altra notizia drammatica che è caduta nelle ultime ore a Montesilvano. Ristoratore stroncato da un malore sotto gli occhi della fidanzata. Parliamo anche di sport. Vedete il frentano Luca Verna. Pallone d'oro abruzzese per il quotidiano Il Centro. Centrocampista frentano in forza al Pisa. Guidato da un altro tecnico abruzzese pescarese, in questo caso Luca D'Angelo. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano Il Centro. L'edizione di Chieti e Lanciano Vasto. Vediamo a centro pagina la fotonotizia. E Giulio Simone, il primo bimbo nato a Chieti nel 2020. La Cicogna, l'ospedale Santissima Annunziata del capoluogo Teatino. Restiamo a Chieti. Preleva i soldi della moglie e la perseguita. E poi Treglio, travolta e uccisa. Omicidio stradale per l'investitore. Vediamo un'altra notizia che arriva da Vasto, in questo caso dal Vastese. Acqua razionata fino all'Epifania. Sale la protesta nei comuni interessati. E poi tunnel infinito. Servono altri lavori. Sorpresa Chieti. Spunta una nuova spesa di 41 mila euro. Slitta ancora l'apertura. Andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Teramo. del centro. Anche in questo caso vedete la fotonotizia con il primo nato che è Denis. Primo nato nel Teramano, l'ospedale di Santomero. Lo vedete nella foto con la mamma. Teramo, i carabinieri nel bar dell'ospedale. Corropoli, auto contro albero, feriti. Due fidanzati. Andiamo più in basso. Stiamo sempre in provincia di Teramo. A Silvia, coltellato all'addome. Dopo il veglione. Ancora zoprofilattico bloccata la nomina. Teramo, nuovo presidente dell'istituto. Guerra per l'incarico tra Di Giacinto e Di Giulio. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro. Edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Befana, assalto di 325 bancarelle. Siamo all'Aquila. Il percorso del famoso mercatino del 6 gennaio. Si snoda dalla villa comunale a Viale Gran Sasso. Vediamo ancora. Tommaso batte tutti. Ad Avezzano il primo vagito e all'Aquila vengono a luce i primi gemelli d'Italia. Ovindoli, festa con Errissa, giovane turista ferita dal branco. Andiamo più in basso. L'attore Fulco vestirà i panni di San Giuseppe. Poi ritroviamo anche sull'edizione dell'Aquila la notizia drammatica della morte di questo ristoratore marsicano di 32 anni avvenuta per un malore in un hotel del Pescaresi. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Pescara, delitto nel Bronx, ferro di cavallo. E poi sangue anche a Silvi, giovane accoltellato dopo la discoteca. E poi la polemica, dimenticato l'artigianato, il centro-sinistra contro l'assessore regionale Mauro Febo. Parliamo anche di Rigopiano. Nuove accuse all'arma. Un quarto carabiniere indagato nella nuova inchiesta è il colonnello Massimiliano Di Pietro, ex comandante del nucleo investigativo nel mirino DPM, per la gestione dei risultati del RIS. Questo è il titolo del quotidiano Il Messaggero. Vedete poi più in basso i fiocchi azzurri e fiocchi rosa nella nostra regione a Lanciano, il primo nato, Gemelli all'Aquila. Musica di San Silvestro a Pescara, successo dei concerti che si sono tenuti nella zona dell'area di risulta. Ci spostiamo nella parte bassa della pagina. Vasto, botti di fine anno, fiamme al pala BCC che sono state poi spente dai vigili del fuoco. Vediamo in alto altre notizie. Partiamo dall'Aquila, Vertenza Amas, Piraglio in vista amministratore sulla graticola. Poi rugby, l'aquilano Di Giandomenico, miglior allenatore mondiale donne. Poi il calcio di Serie B, Pescara, il caso Memusciai e la prima grana del 2020. A proposito di Pescara e di calcio in generale, si apre oggi ufficialmente il calciomercato, la sessione invernale del calciomercato tra tante le trattative in ballo per le formazioni abruzzesi, soprattutto di Serie B e Serie C, ovvero Pescara e Teramo. Vediamo il quotidiano La Città, la prima pagina, scanto all'alba contro un albero, due 22enni ricoverati in gravi condizioni per un incidente al rientro dal Veglione. E poi Natale Teramano, successo per il concerto di Capodanno, la piazza di Nicolò, vedete. E poi omicidio di Capodanno a Rancitelli, arrestato un 35enne, poi accoltellato all'addome durante la notte di San Silvestro e poi vedete più in basso, battaglia legale sul break bar del Mazzini. Lasciamo anche la prima pagina del quotidiano La Città, tra poco torneremo a vedere le notizie all'interno dei quotidiani abruzzesi, ma andiamo con ordine. Vediamo l'edicola nazionale, i titoli dei quotidiani principali che troverete oggi in edicola. Partiamo dal giornale milanese, il Corriere della Sera, Autostrade, si riapre il caso, questo è il titolo di apertura. Mattarella, seguito da 10 milioni su TV web, fiducia nel Paese e nei giovani di Maio. Tornando alla questione autostrade, ora la revoca, dice delle concessioni, ma il sottosegretario PD Margiotta poi ribatte vicenda. delicata e poi vedete parla Riccardo Muti, il noto direttore d'orchestra dalla Scala Napoli, tour nell'Italia, che amoce l'intervista al maestro Muti. Vediamo anche più in basso, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la crisi climatica, Australia in fiamme, fuga verso il mare e poi il Papa strattonato perde la pazienza e poi chiede scusa e schiaffetti sulla mano di una fedele. Vediamo anche Repubblica, la prima pagina, avviso ai partiti, questo è il titolo 2020, il manifesto della giovane Italia. Grande eco per il messaggio di Mattarella, del Presidente della Repubblica, alla Nazione. Poi vedete anche su Repubblica, il Papa, scusate se anch'io perdo la pazienza, il Pontefice irritato da una fedele. Vediamo poi in basso un altro titolo che riguarda sempre Repubblica, il reportage dal Giappone a Tokyo, è già Olimpiade. Vediamo il prossimo quotidiano che è Il Fatto, il buon governo leghista, cemento e niente bilanci, questo è il titolo di apertura. Vediamo anche in alto un altro titolo che ci aspettiamo dal governo sul lavoro, giustizia, opere, crisi aziendali e clima. Vediamo anche il mattino, il quotidiano di Napoli, prescrizione senza scadenza, 30.000 processi all'anno, via la riforma, buona fede. I dubbi di PM Avvocati, obbrobrio, giuridico, concessione d'autostrade, scontro fra Ministri De Micheli, frena Di Maio. E poi il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, i raggi X, i giovani e il divario nord-sud, le preoccupazioni di Mattarella. E poi, espulso Paragone, il Movimento 5 Stelle perde altri pezzi, Fioramonti pronto a fare il gruppo Eco. Lasciamo anche il quotidiano napoletano, vediamo invece Libero, un paio di schiaffi a una rompiscatole, questo è il titolo di apertura che riguarda l'episodio che si è verificato a Piazza San Pietro, che ha visto protagonista il Pontefice. La notte di San Silvestro, vissuta sulla volante della Polizia Milano, in balia dei teppisti, i abusivi bruciano di tutto. C'è questo reportage dei giornalisti di Libero, proprio nella notte di Capodanno. Vediamo anche il prossimo quotidiano che ci riguarda, che è il messaggero nazionale. Torniamo sulla vicenda molto delicata di autostrade frenata. Infatti sulla Revoca vedete il titolo del quotidiano romano. Di Maio accelera l'altola dei trasporti e poi Aspi, dopo il crollo, in due mesi, verifiche nelle gallerie. Mattarella serve più fiducia, dice il Presidente della Repubblica, a ridurre il divario nord-sud. Paragone espulso dal Movimento 5 Stelle. E poi vedete, Bergoglio era stato strattonato, anche io perdo. La pazienza di scarica si cambia. Il dietrofront di Raggi che smentisce Grillo. Siamo a Roma, il nuovo impianto si farà vicino a Malagrotta, nella zona che i 5 Stelle volevano risanare. Poi vediamo anche sulla prima pagina nazionale del messaggero l'allarme in ritardo, l'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano, indagato ufficiale dell'arma. Vediamo il prossimo quotidiano, che è il manifesto, duce Anna Franca al forno, Venezia, appestati l'ex deputato Arturo Scott, un ventenne, Filippo Storer. Questo è il titolo nella parte alta della pagina del manifesto. E poi la fuga dall'inferno. Vedete quello che sta accadendo ormai da diversi giorni in Australia, devastata dagli incendi, colpita da un mese di incendi, ieri altri 100 focolai in Australia. E la situazione è veramente drammatica. Vediamo anche il sole 24 ore pubblico impiego, 60 mila assunzioni in più nel triennio. Questo è il titolo che riguarda la parte alta della pagina del sole 24 ore. Poi cuneo fiscale nel decreto tre vie per aumentare le retribuzioni nette. Lasciamo il quotidiano economico. Vediamo la verità. Nel condominio di Don Bolletta si festeggia il capodanno gay. Questo è il titolo di apertura. E poi concita attacca la finta Bergonzoni, non contenta in colpa. Quella vera, l'altro titolo della verità. E poi più in basso i nostri ospedali senza medici e infermieri. Ecco il piano salute del ministro, una top per spedire specializzanti e pensionati in corsia. Vediamo il tempo. Banca Italia ci prende per scemi, una campagna offensiva, scrive il quotidiano romano. Incredibile spot, scrive sempre il tempo, per l'educazione finanziaria con due video su carte di credito e investimenti. E poi vedete il Papa si libera con uno schiaffo da una fedele. Il giorno dopo si scusa per il cattivo esempio. E poi più in basso Movimento 5 Stelle, ecco i 59 piccoli casaleggio, scrive sempre il quotidiano, il tempo. E poi un altro articolo all'interno poi del giornale, un'intervista al noto telecronista Bruno Pizzul. La mia Italia si è persa, abbiamo smarrito il senso di appartenenza, dice Bruno Pizzul. Vediamo la stampa di Torino, Salvini Conte lo zero assoluto, intervista al leader della Lega che attacca il presidente del Consiglio e polemizza con Francesco. Vedete poi monopattini come le bici, ecco le regole per usarli in città. C'è anche questo articolo sulla stampa, ilsecolo.it, Rossi di Vergogna, Piombino dove il PD pretende di conservare i vecchi privilegi di nomenclatura, scrive il quotidiano, ilsecolo.it. Vediamo altri titoli, Meloni, Plaude, Mattarella, discorso di alto profilo. Bergoglio perde le staffe e poi chiede scusa in piazza. Rifiuti di Roma senza pace ritornano a Malagrotta. Andiamo a vedere il secolo XIX, il quotidiano di Genova, crollo in galleria, pagano i tecnici, revoca delle concessioni più vicina, scrive il secolo XIX. Autostrada sospende gli esperti SPEA che certificarono il tunnel aperta inchiesta per disastro colposo. Vedete poi le scuse di Francesco, anch'io perdo la pazienza, si è scusato il pontefice dopo l'episodio dell'altro giorno. Vediamo anche il prossimo quotidiano che riguarda la nostra edicola nazionale. Eccolo qui, avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana. La fiducia e la pace da Mattarella e dal Papa, il forte invito all'impegno e alla responsabilità. Il Presidente Mattarella dice che il Paese ha grandi potenzialità. Il Papa chiede più spazio per le donne. E poi vedete, più in basso, World Economic Forum, i giovani italiani in sci a Davos per chiedere un altro clima. E poi, alta tensione USA Iran, avvertimento del Presidente americano Trump. Lasciamo dunque l'edicola nazionale. Possiamo tornare alle questioni abruzzesi. Possiamo ripartire dal quotidiano Il Centro, da pagina 2. Eccola qui inquadrata, come risparmiare nel 2020 dai mobili e rubinetti tutti i bonus casa. Confermati gli sgravi sulle tasse per ristrutturazione e sicurezza sismica, i giardini, i terrazzi e da ora anche le facciate dei palazzi. Vediamo il prossimo articolo. Le quattro interviste tra la Lega e le Sardine. Sarà un 2020 di confronti. Parlano Spinelli, promotore della piazza, e Deramo, capo regionale del Carroccio. Per sospiri la priorità è la sanità da rivoluzionare e Marcozzi scommette su Dubai. Legnini, deluso da questa politica, il leader del centro-sinistra fa il bilancio del suo primo anno vissuto da oppositore. Vediamo l'altra pagina di cronaca regionale. I nodi del 2020, crisi dell'artigianato, l'attacco del centro-sinistra, piccole imprese senza fondi. E poi vediamo l'altra notizia di spalla in questo caso. Gli auguri all'Abruzzo del papà della piccola Noemi, la bimba simbolo della nostra regione. Vediamo poi in basso i sindacati medici, ora subito i vertici ASL. L'intersindacale scrive al presidente della regione Marco Marsilio e all'assessore alla sanità Nicoletta Verì, parlando di situazione di stallo da superare nei primi giorni dell'anno. Andiamo a vedere le cronache dalle province. Partiamo da Pescara, omicidio a Rancitelli, ucciso di botte per la droga. La vittima è Marco Cervoni, pennese, di 35 anni, è stato fermato, Guerino Spinelli, di 29 anni. La vittima da mesi non si vedeva appena appassionato di pesca. Questo è il ritratto del giovane 35enne morto. Si azzuffò in strada con i nigeriani nel 2018, era stato protagonista di una rissa davanti ad un ristorante. Pettinari del Movimento 5 Stelle chiede i militari al ferro di cavallo. Il consigliere regionale torna a sollecitare videosorveglianza e polizia H24. Il sindaco Masci, telecamere in arrivo. Il consigliere comunale dell'Udc Pignoli, vertice per un ascolto sociale. Questa è la richiesta dell'esponente dell'Udc. Andiamo avanti, andiamo a vedere la prossima pagina del quotidiano Il Centro per vedere qual è il prossimo argomento. È quello che riguarda il porto. Vedete il sopraluogo in barca che c'è stato il primo dell'anno, ieri, a Pescara. Discarica cielo aperto nel porto Masci, ministero responsabile. Il sindaco trasportato da un peschereccio all'ingresso del Molo Nord per vedere i fanghi del dragaggio. Il provveditorato si decida a rimuovere il materiale, non voglio fare il funerale allo scalo marittimo, ha detto il primo cittadino che vedete nella foto in alto con Riccardo Padovano della Sib, oltre che vicepresidente della Confcommercio di Pescara. Restiamo in argomento mare con il bilancio delle operazioni svolte dalla Capitaneria di Porto nella nostra regione. Sequestrate 8 tonnellate di pesci, il bilancio 2019 vede anche 400 multe per un totale di 750 mila euro, lungo tutta la costa abruzzese di competenza della direzione marittima Abruzzo-Molise di Pescara. Elia Maria Lorenzo, il primo bimbo a nascere nel 2020. Mattia Ginevra, gli ultimi piccoli a venire alla luce nel 2019. Una madre è tornata dalle Filippine per partorire a Pescara. Vedete la foto dei vari primi nati, delle loro famiglie, dei loro genitori. E poi il concerto di Capodanno. In 8 mila cantano con gli stadio, locali presi d'assalto per i veglioni. Restiamo a Pescara. D'anni della grandine, ricorderete, il 10 luglio scorso, la grandinata a Pescara in alcune zone anche della regione. Al comune arrivano 3 milioni per riparare le scuole. Vedete in questo grafico l'elenco delle scuole che potranno avere dei fondi e dunque vedere riparati i danni subiti nel corso della grandinata. Parliamo anche di viabilità a Pescara, via Pepe rifatti, marcia a piedi. La strada riaperta a doppio senso. Da Viale Pepe ci spostiamo di qualche centinaio di metri. Viale Marconi, il Consiglio ferma il progetto. Un ordine del giorno invita a rivedere il piano. Fratelli d'Italia e Lega no alla cancellazione di 96 posti auto. Proseguiamo. Siamo alla cronaca di Montesilvano, sempre dalle pagine del centro. Veglione tragico, ristoratore muore a 32 anni dopo la festa. Armando Livieri aveva brindato con fidanzati amici. Il malore lo ha stroncato al ritorno. In hotel è stata disposta l'autopsia. E poi in basso, incendiato un furgone paninoteca in via Aldomoro, sempre a Montesilvano. Andiamo a vedere le notizie che arrivano ancora dalla provincia di Pescara. Derubato della pensione in casa da finti carabinieri. Montesilvano, l'uomo di 79 anni, era già stato vittima di un raggino nel 2018. San Giovanni Tiatino, Ada di Berardino di Pianella vince il concorso Dolcezze d'Abruzzo. In alto, spoltore, borse di studio della History Life. Andiamo a vedere a centro pagina. Ci spostiamo a Città Sant'Angelo. In mostra, le opere degli angolani, angoli d'arte, 97 pitture e sculture nell'auditorium di Sant'Agostino. Andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta a Francavilla al mare. Francavilla, il 118 pronto a trasferirsi a San Franco. L'annuncio durante la visita del manager dell'ASL di Echieti Shoel. Il trasloco entro un mese, il Comune affiderà in comodato d'uso l'edificio ristrutturato con fondi regionali. Ancora Francavilla, siringa abbandonata su una panchina in piazza Tirreno. E poi in alto, ancora la cittadina adriatica, conferenza concerto in programma al Museo Michetti. Ci spostiamo in provincia di Pescara, Cepagatti, polemica sul nuovo distretto sanitario. Vediamo poi in basso, ancora Cepagatti, eletto il Consiglio dei Bambini. L'ambiente è il primo obiettivo. Proseguiamo, siamo nella pagina che riguarda la Val Pescara e l'area Vestina. Caramanico, litigio per una sigaretta, giovane ferito all'addome. Poi Penne, inaugurato il parco giochi della scuola Luigi Polacchi. Ci spostiamo più in basso, Penne, restauro di Porta Teramo. E polemica, criticata sui social, la nuova facciata voluta dalla sovrintendenza. Lasciamo anche questo articolo, ci spostiamo in basso, nella parte bassa della pagina. Parliamo del Volto Santo, processione a Roma. Il 19 gennaio in tanti da Manoppello parteciperanno al pellegrinaggio di San Pietro. Lasciamo anche questa pagina, lasciamo la provincia di Pescara. Ci spostiamo a Chieti, a Chieti provincia. In questo caso siamo nell'area Frentana, Treglio. La morte di Amida, l'investitore accusato di omicidio stradale. E poi Taranta Peligna, servizio scuolabus pagato da altri comuni. Sale la polemica. Vediamo un altro articolo. Il cuore si ferma, salvato dal 118. A Capodanno va in arresto cardiaco dopo un infarto. Ora è fuori pericolo. Vediamo anche la cronaca, sempre dalla pagina di Chieti del Quotidiano Il Centro. Preleva i soldi della moglie e la perseguita un 46enne ossessiona, scusate, al telefono la donna dalla quale si sta separando. Preparati all'inferno, queste le parole come sono state riportate qui nell'articolo del Quotidiano Il Centro. Parliamo anche di sanità. Ci spostiamo ad Ortona, trattamento dell'infertilità, l'assistenza in aumento. Ortona, dati in crescita per il centro di procreazione assistita dell'ospedale Bernabeo. Il professor Tiboni, Regione Asl, attivino la diagnosi genetica pre-impianto. Ci spostiamo a Tollo, sindaco vieta i botti fino al 6 gennaio, multe fino a 500 euro. Andiamo a vedere anche la prossima pagina. Cambiamo ancora provincia, siamo a Teramo, parliamo dell'Istituto Zooprofilattico Caporale Guerra per la nomina del Presidente Il Trenta. In Regione sembrava fatta la scelta di Giacinto, ma l'accesso agli atti del concorrente Di Giulio ha bloccato tutto il titolo del quotidiano Il Centro. Proseguiamo, andiamo a vedere la prossima pagina del centro che ci porta in provincia di Teramo a Silvi, giovane accoltellato all'addome, ma non ricordo chi è stato, è un ospedale 18enne del posto. Pineto, violati i divieti di accesso alla Pineta. Catucci, vediamo poi nella parte bassa della pagina, ci spostiamo ad Atri, sempre ovviamente in provincia di Teramo, alla guida del bus con il telefonino, Atri la protesta di un viaggiatore che ha fotografato il conducente della tua. Torniamo a Silvi, ambulante in Brattemuri per reclamizzare la merce. Siamo all'Aquila, torna alla fiera, la fiera dell'Epifania, la 72esima edizione per la Befana, 325 bancarelle sono pronte ad invadere il centro cittadino. Parliamo anche di trasporti, comitato Pendolari, no alla soppressione di Corsetua, da e per Fiumicino e Ciampino. Siamo a Rivi Sondoli, l'attore fulco nei panni di San Giuseppe, domenica ci sarà, si terrà la 69esima edizione del presepe vivente di Rivi Sondoli, arricchito dalla presenza anche di un coro gospel. Andiamo a vedere la prossima pagina, sempre del quotidiano Il Centro. Eccola qui, siamo sempre all'Aquila. Due gemelline prime nate, 2020, in Italia, Ginevra e Virginia di Fabio sono venute alla luce, alle 10.30, papà Daniele e mamma Paola, originari di Castelnuovo. 24enne, aggredito e picchiato dal branco, Ovindoli, turista, vittima di un gruppo di giovani e il figlio dell'ex capogruppo PD alla Regione Lazio. E poi sempre ad Ovindoli, ragazzo ferito da un petardo nel centro montano della Marsica, in basso, siamo ancora nella Marsica, con l'auto contro un asino, paura per moglie e marito, il racconto dell'uomo che era alla guida dell'auto. Miracolati, ha detto ai giornalisti. Lasciamo anche questa pagina, siamo arrivati allo sport, allora possiamo fermarci a questo punto per qualche istante, andare a vedere anche le previsioni del tempo, poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6, avevamo visto insieme le pagine del quotidiano Il Centro, ora siamo al messaggero l'inserto Abruzzo, ripartiamo dalla cronaca di Pescara, dal fatto di sangue accaduto nella mattinata di ieri, ammazzato di botte per uno sgarro, l'assassino in manette, vedete il titolo di apertura, e poi in basso, omicidi e pestaggi verso chi sgarra, così i signori della droga alzano il tiro. Siamo ancora alla cronaca di Pescara, all'inchiesta di Rigopiano, c'è un quarto carabiniere indagato, svolta nell'inchiesta Quater su Rigopiano, iscritto, leggiamo qui dalle colonne del messaggero, dalla procura di Pescara, anche l'ex capo del nucleo investigativo Massimiliano Di Pietro, il colonnello oggi in servizio nelle Marche, nei guai per il ritardo nell'invio ai magistrati della relazione del RIS sui telefonini delle vittime. Un coperchio sugli allarmi inascoltati che scatena lo scontro tra investigatori. Andiamo avanti, la prossima pagina del messaggero, metti un lì e gli stadio accendono il capodanno di Pescara, in migliaia scelgono l'area di risulta per i concerti e gli show del comune Masce e Cremonese, un bel successo, funziona la formula del doppio evento, quello del 31 e quello del primo di gennaio. Vedete poi i nuovi nati, si chiama Mattia l'ultimo nato del 2019, Di Lorenzo il primo vagito di gennaio. Proseguiamo, i fanghi restano nella vasca di colmata, il provvitorato alle opere pubbliche ha revocato il bando di dicembre per lo svuotamento, si rischiano costi migliorari. Procedura da ripetere, furibondo il sindaco Carlo Masce, una vergogna che la nostra città non può sopportare ieri il sopralluogo del sindaco Masci. Parliamo anche del restyling della città albore Mascia, Viale Pepe finalmente riqualificato, ha detto l'assessore del comune di Pescara. Malore in hotel dopo il veglione muore a 32 anni. In basso a Montesilvano, De Martini si conferma a Casale, a capo dei vigili, e Niccolò all'urbanistica. Queste le decisioni del primo cittadino di Montesilvano. Siamo alla pagina dell'Aquila, all'ama fine anno di passione, ma l'avvertenza pare sbloccarsi. È stato ripristinato in sostanza quell'accordo che era già stato sancito lo scorso 15 novembre, via a turni aggiuntivi, ma almeno la parte economica della contrattazione di secondo livello non è stata toccata. Di Benedetto, nessun inciucio, vogliamo costruire un'alternativa, l'ha affermato Amerigo Di Benedetto, a qualche giorno dalla seduta infuocata sul bilancio di previsione. Parliamo anche di economia, un dramma l'ultimo decennio. Questa l'analisi, per quanto riguarda l'economia dell'Aquilano, del segretario provinciale della CGL, Francesco Marrelli, che traccia un quadro desolante della situazione. Post-sisma, operai sfruttati, inchiesta tutta da rifare. E poi paura in piazza, famiglia a passeggio, aggredita da un cane. Lasciamo questa pagina dell'Aquila, del quotidiano Il Centro, per vedere la prossima, scusate, il messaggero, per vedere l'altra pagina. Eccola qui, Capodanno, polemiche e freddo polare. Tante le segnalazioni del mancato rispetto dell'ordinanza del sindaco che vietava i botti. Le temperature minime registrate sono state di 8,8 gradi nel capoluogo, con punte e piani di pezza di meno 15,3 gradi. Dunque, meno 8,8 gradi e meno 15,3. Ovviamente, temperature polari in queste zone dell'Aquilano. Andiamo a vedere le altre notizie di pagina 41. Una in particolare, la festa, perché il cardinale dell'Aquila Petrocchi è stato dalle Celestine per la celebrazione di San Basilio. Andiamo a vedere la pagina che riguarda la Marsica e la Valle Peligna. Partiamo dalla Marsica e dunque da Avezzano. Passerotti in ritardo, rinvio per il bilancio. Di Pangrazio, poco male, slitterà al 31 marzo. Piuttosto, il commissario riapra, ha detto ancora Di Pangrazio, subito le pedonali del Salviano. L'ex sindaco De Angelis mi hanno defenestrato proprio sul bilancio e ora fallisce uno che è chiamato apposta. Questa è la domanda che si è fatta, si è posto l'ex primo cittadino di Avezzano, De Angelis. Parliamo anche del Capodanno, giovane medicato per un petardo auto in veste, un asino e poi a Sulmona un hub culturale nell'area celestiniana. Vediamo le altre notizie. In basso, Sulmona, comune verso la Paralisi, se ne va un altro dirigente. Questo è il titolo che riguarda la città Peligna. Poi Avezzano si chiama Tommaso, il primo nato dell'anno. Sci a marzo le finali di Coppa Italia che si svolgeranno a Rivi Sondoli e poi ad Avezzano hanno nuovo i personaggi che danno lustro alla Marsica. Pagina di Chieti del messaggero penalisti a lutto una settimana pronte a far causa a Bonafede. Il presidente Colaneri eliminata la medicina contro il cancro della lungaggine processuale. Supino propone azioni di risarcimento danni contro il ministro. La proposta è partita da lui. E poi San Francesco via l'Erbacce con i ciclisti ambientalisti. Quartiere Filippone, siamo sempre a Chieti il 118 salva la vita a un settantenne poi Giulio Simone primo nato alle 4.04 del 2020 al Policlinico Santissima annunziata di Chieti. Siamo alla pagina della provincia Botti di San Silvestro con Roghi a Vasto e poi Lanciano ente manifestazioni frentane oggi doppio concerto dalla regione 50.000 euro e poi direzione marittima Bruzzo Molise nel 2019 sequestrati 8 tonnellate di pesce. Vediamo poi in basso ancora Lanciano frustrate e pratiche religiose adepti non erano costretti e poi vasto un tuffo in mare il primo dell'anno come da tradizione nonostante il clima molto freddo. Siamo alla pagina di Terra Teramo oltre 10.000 spettatori alle tre serate dei concertoni in 3.000 a brindare con il sindaco e poi l'omaggio dei Teramani ad Ivan Graziani Cronaca Val Vibrata coppia di fidanzati e grave all'ospedale dopo un incidente stradale provincia Monti Gemelli si rientra in società con una quota pari al 12% vediamo anche la pagina che riguarda la provincia di Teramo partiamo da Silvia coltellato a 19 anni dopo la discoteca protagonista un giovane 18enne e poi Tortoleto ha provato nella notte il nuovo piano regolatore Giulianova Vandalia al Palacastrum lite familiare con un ferito vediamo ancora altre notizie 50 babbi Natale si tuffano in mare a Capodanno per tre volte a Giulianova e poi a Martinsicuro nuova pista ciclabile fra gli scogli per chiudere da questa pagina parliamo anche di tasse torniamo a Giulianova perché si pagherà l'Atari anche nel porto lasciamo questa pagina siamo arrivati anche in questo caso allo sport dalle pagine del messaggero allora possiamo andare a vedere le pagine interne invece del quotidiano la città ricominciamo con la pagina che riguarda la cronaca d'Abruzzo in questo caso siamo a Pescara omicidio al ferro di cavallo di Rancitelli fermato un giovane e poi Colle San Marco cade per spegnere l'incendio provocato dai botti muore ragazzo di 26 anni in questo caso siamo al confine con la provincia di Teromo ma in territorio marchigiano in provincia di Ascoli Piceno economia il bilancio dimentica artigianato e micro imprese le associazioni abruzzesi si chiedono un incontro urgente al presidente della regione Marco Marsilio primi fiocchi del 2020 Denis e Gaia primi nati teramani del nuovo anno un maschietto a Sant'Omero una bimba a Teramo la prima nata abruzzese e vittoria a Lanciano e poi il Movimento 5 Stelle con la deputata Valentina Corneli contesta la scelta per la presidenza dell'istituto zoo profilattico di Teramo Natale Teramano Capodanno intimista sulle note di Niccolò Fabi il concerto del primo dell'anno bis il successo del precedente con Ermal Meta la formula convince vedete in questa pagina le immagini sulla grande presenza di gente al concerto di Capodanno andiamo a vedere la prossima pagina sempre del quotidiano la città eccola qui pagina 8 Bar Mazzini aperto prosegue la battaglia legale la ASL si rivolge alla procura per il mancato passaggio di consegne carelle anche sull'affitto non pagato politica Mario Cozzi coordinatore di Forza Italia a Teramo città proseguiamo scuole la provincia programma il comune no il consigliere di maggioranza del misto manda l'ennesimo segnale politico in vista della verifica di giunta vivere Abrex Labor Art Luna di Miele in Abrex sotto una tendina di stelle parliamo di Abrex di questa nuova forma di pagamento che sta facendo breccia anche nella nostra regione proseguiamo istituzioni la provincia di Teramo rientra nel Cotuge approvata la variazione di bilancio per gli interventi da 3 milioni e 700 mila euro lungo le strade siamo a Campli grande successo per l'undicesima edizione del presepe vivente in basso Basciano siamo sempre nel Teramano un marciapiede lungo il tratto pericoloso della strada statale 150 nella stessa zona sarà realizzato a cure a spese della Ruzzoreti anche un nuovo tratto di fognatura proseguiamo schianto siamo nella Val Vibrata sulla 259 gravissimi due giovani Mercedes classe A sbanda e finisce contro un albero due 22 anni ricoverati in prognisi riservata in ospedale Martinsicuro la città di Martinsicuro si candida per ottenere la bandiera azzurra l'amministrazione di Massimo Vagnoni ha deliberato l'adesione alla rete delle città della Corsa e del Cammino restiamo in Val Vibrata ci spostiamo nella parte bassa della pagina a Colonnella un nuovo polo scolastico antisismico da 3 milioni di euro è stato infatti approvato in Consiglio Comunale il progetto definito che prevede la demolizione e la ricostruzione dell'edificio vediamo anche la pagina di Giulianova Arboretti boccia il bilancio di Costantini del primo cittadino e poi rivoluzione per i rifiuti del porto via libera al piano per ottimizzare la gestione e lo smaltimento nello scalo e poi tuffo in mare a Capodanno dedicato alle tematiche ambientali ieri mattina si è infatti ripetuto il tradizionale bagno che ha visto protagonisti cittadini vestiti da Babbo Natale lasciamo questa pagina del quotidiano la città andiamo a vedere la prossima pagina sempre del quotidiano Teramano che ci porta a Silvi a parlare di cronaca coltellato durante la notte di Capodanno i cravinieri stanno ricostruendo la nottata di un diciottene di Silvi ferito all'addome con una lama vediamo poi più in basso a Roseto degli Abruzzi pubblicato il nuovo bando per vendere l'ex mattatoio ultimo ribasso da parte dell'amministrazione comunale per cercare di alienare diversi beni ancora Roseto degli Abruzzi cronaca beccato con l'eroina in auto è stato arrestato pagina della cultura se quello che è reale non è vero parliamo delle letture per iniziare l'anno nuovo intrigo memoria e identità nel romanzo di Patrick Fogli lasciamo dunque anche il quotidiano la città possiamo aprire come di consueto nell'ultima parte di mattino 6 la pagina che riguarda lo sport iniziamo con i titoli dei quotidiani sportivi nazionali siamo alla gazzetta dello sport reazione inter via un supermercato scontro tra bianconeri e conte subito vidale in estate il sogno Eriksen Juve oggi la firma di Kulusevski Ibradei Zlatan Ibrahimovic pronto per lo sbarco a Milano sponda rossonera Befana show a San Siro vediamo anche il corriere dello sport oggi via al mercato lo dicevamo in apertura dell'appuntamento di oggi con mattino 6 la Juventus vuole Dejan entro gennaio Ibra sbarca a Milano Kulusevski vedete il nuovo volto della Juventus vedete e poi più in basso Ibrahimovic pronto a dare una mano al Milan e poi Fiorentina e Roma porte aperte che entusiasmo per gli allenatori nuovi allenatori di queste due squadre o per meglio dire per la nuova proprietà della Roma che ha una nuova società e per il nuovo tecnico invece della Fiorentina con Iachini al posto di Montella allenamenti a porte aperte con tanti tifosi sugli spalti vediamo anche il quotidiano torinese tutto sport Eccoli Ibrahimovic oggi a Milano Euforio a Milan Kulusevski oggi a Torino firma per la Juventus Eriksen l'Inter ha deciso bloccarlo subito dunque grandi acquisti per le formazioni impegnate nel campionato di Serie A e a proposito di Serie A il Torino costa 280 milioni società sana conti in regola nessun debito capitale giocatore in crescita l'esperto spiega perché il club Granata può attirare nuovi investitori lasciamo dunque i titoli dei quotidiani sportivi nazionali possiamo passare alle pagine dello sport dei quotidiani abruzzesi partiamo dal centro gli appuntamenti del 2020 vedete in questa prima pagina di sport nazionale il 30 maggio il Clou con la finale di Champions League a Istanbul a giugno gli impiegni degli azzurri di calcio con gli europei e poi il 24 luglio via ai giochi di Tokyo dunque grandissimi appuntamenti in questo anno appena iniziato vediamo poi il calciomercato ne parlavamo prima Juve Kulusevski a Torino per le visite mediche guardiò la firma la prima sconfitta di Ancelotti con l'Everton di Ancelotti che è stato sconfitto dal Manchester City per 2 a 1 e siamo alla pagina che riguarda la Serie B ed il Pescara il sondaggio al giro di Boa ben evento già promosso il Pordenone la sorpresa i tecnici indicano le favorite per la Serie A e votano Messias calciatore del Crotone rivelazione del torneo Tramezzani l'unico a citare il Pescara Zauri Applade il Plaude il bevi centravanti Borrelli e c'è questo sondaggio proprio tra alcuni allenatori tra gli allenatori della Serie B sulle squadre che vinceranno che potranno vincere il campionato sul calciatore rivelazione del torneo su quelle che saranno le tre formazioni promosse in Serie A è l'unico allenatore a parlare del Pescara come di possibile protagonista in questo senso il tecnico del Livorno Paolo Tramezzani a proposito di allenatori Massimo Oddo verso l'esonero il Perugia valuta Colantuono vediamo anche di leggere una prima parte di questo articolo che riguarda l'ex allenatore della formazione abruzzese perché Massimo Oddo è a un passo dall'esonero il Perugia ha ormai deciso di cambiare dopo lunghe e attente valutazioni gli ultimi risultati hanno portato il club a considerare l'esonero del tecnico pescarese capone l'ultima gara del girone d'andata contro il Venezia il club del Patron Santo Padre sta valutando il cambio che potrebbe diventare ufficiale entro qualche ora il Perugia di Massimo Oddo dopo 19 partite di campionato è sesto in classifica con 27 punti in compagnia di Ascoli e Frosinone come potete vedere dal titolo il Perugia valuta Colantuono come nuovo allenatore ma deve ancora arrivare l'ufficialità dell'esonero di Massimo Oddo parliamo anche di Serie C del Teramo Teramo che vuole essere protagonista nel calciomercato Lewandowski intanto il portiere bianco-rosso passa al notaresco trattativa avviata fra il Teramo e due giocatori del Catania si tratta di Curiale e Barisic andiamo a vedere la prossima pagina pallone d'oro abruzzese per il centro Trionfa Verna è lui il migliore del 2019 giocatore Frentano di Lanciano in forza al Pisa allenato dal pescarese Luca D'Angelo Coppa Italia Abruzzo inizia la festa del calcio a 5 a Pescara da oggi a lunedì ci sarà questo importante appuntamento che riguarda proprio questa disciplina molto seguita nella nostra regione vediamo anche le altre notizie che riguardano il calcio ma non solo partiamo dalla Serie D dall'Avezzano Avezzano che chiede la salvezza all'esperto Bomber Masini per lui 37 anni e poi Cerasi Tullio e Ciabocco in evidenza ad Ancona trasferta ricca di soddisfazioni per gli abruzzesi al trofeo di ciclismo Vitaloni il trofeo di ciclocross valido come ultima prova dell'Adriatico Cross Tour Pedale Teate la formazione teatina si classifica al terzo posto parliamo anche di pallavolo perché il Pineto si aggiudica il Memorial provvisiero a Teramo la capolista del Girone della Serie B batte Ancona e Civita Castellana bene anche la formazione Under 16 vediamo anche in basso un altro articolo alla coppia di Giovanni Battistini il primo Christmas Padel Cup che si è tenuto a Rocca San Giovanni lasciamo le pagine dello sport del quotidiano il centro per andare a vedere invece lo sport sul quotidiano il messaggero partiamo da pagina 48 per parlare del Pescara vedete il titolo di apertura Memushai prima spina dell'anno apre oggi il mercato Pescara al lavoro per ricucire lo strappo fra l'albanese Zauri il presidente Sebastiani chi lo vuole deve darci almeno un milione di euro ma si punta a far rientrare la questione Memushai proprio alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa di Capodanno e ci sarà una settimana di riposo per i giocatori del Pescara lo vedete anche da questo titolo perché si tornerà a sudare il 7 gennaio martedì 7 gennaio domenica 19 gennaio dunque fra 17 giorni riprenderà il campionato almeno per quanto riguarda il Pescara che giocherà in posticipo domenica appunto 19 gennaio alle 15 allo stadio Adriatico con la Salernitana per la prima giornata di ritorno del campionato cadetto vedete nella foto il portiere Fiorillo che è tornato a difendere la porta dei pali della formazione abruzzese nell'ultima gara di campionato del 2019 con il Pescara bloccato sul pareggio con il Chievo Verona lasciamo il calcio almeno per il momento parliamo di basket Roseto Bobby Jones il rinforzo chiave della formazione rosetana che milita lo ricordiamo nel girone est del campionato di serie a due maschile di pallacanestro l'esperto americano ha saputo guidare la giovane pattuglia al successo nell'ultima gara di campionato contro Caserta parliamo di serie C di calcio dunque torniamo al calcio per vedere quello che accade in casa Teramo Teramo devi risalire l'ex allenatore Antonino Asta parla della formazione bianco-rossa con questo organico meritava posizioni migliori in classifica il girone meridionale vale la serie B a volte è meglio usare la clava che non il pennello ha dichiarato l'ex tecnico della formazione bianco-rossa Antonino Asta allora possiamo leggere visto che abbiamo qualche attimo in più di tempo qualche passo di questo articolo conservo comunque un ottimo ricordo di Teramo ha detto Asta quella squadra e si riferisce alla sua esperienza in bianco-rosso non è mai stata in una situazione complicata di classifica e sono sicuro si sarebbe alla fine salvata senza l'intervento della vicenda Sant'Arcangelo e sul Teramo del presente vediamo cosa dice Antonino Asta è una squadra che non è partita molto bene e di certo ha influito il fatto di aver cambiato tanto in estate c'era però la volontà di fare grandi cose così si è ripartiti con la possibilità di prendere giocatori importanti per avere equilibri e certezze ci vuole tempo Tedino magari predilige la qualità ma nel girone ci serve anche altro quando lo si è capito il Teramo ha cominciato a fare bene ha detto ancora Asta queste dunque le parole dell'ex Teramo allenatore del Teramo Antonino Asta che dunque ha un po' parlato anche di quella che è stata la sua esperienza non fortunatissima alla guida del diavolo lasciamo il calcio per parlare di rugby con Di Giandomenico top woman coach un aquilano infatti porta in alto nel mondo il nome del rugby italiano si tratta di Andrea Di Giandomenico che è stato nominato best woman world coach 2019 da un sito che si occupa proprio di rugby il portale sito web di riferimento mondiale per il rugby femminile infatti ha attribuito lo speciale titolo al tecnico aquilano come miglior allenatore del pianeta pensate dell'anno solare 2019 l'aquilano di Giandomenico commissario tecnico dell'Ital Donne dal 2010 ha guidato le azzurre verso lo storico secondo posto al Women's Six Nation 2019 con tre vittorie un pareggio e una sola sconfitta contro l'Inghilterra dunque complimenti al coach Andrea di Giandomenico vediamo poi come ogni giovedì che il messaggero regala la consueta mezza pagina al Calcio Wisp con l'intervista ai protagonisti del campionato provinciale di calcio di Pescara in questo caso vedete l'intervista a Leonardo Ianno totem dell'Ecogas Pescaracogli obiettivo salvezza ma lottiamo sempre per qualche coppa spiega Leonardo Ianno il sodalizio di mister Calista alle carte in regola per recitare il ruolo di Spauracchio alla ripresa delle ostilità vediamo anche quello che accade in quest'altro articolo che riguarda il campionato over 40 Barbetta la rinascita della formazione la zona e l'ambizioso obiettivo per il 2020 lasciamo anche le pagine di sport del quotidiano il messaggero per chiudere l'appuntamento di oggi con le pagine dello sport del quotidiano la città ovviamente in primo piano il Teramo Teramo il 2020 deve diventare l'anno del pronto riscatto questo l'articolo che riguarda proprio la formazione bianco-rossa organico da correggere a gennaio ma tanti big hanno reso al di sotto di quanto ci si aspettava la notalieta Bombaggi si aspetta il vero Mungo e dunque si fanno un po' le carte a quello che è stato il Teramo nella stagione che si è appena conclusa in questo articolo vedete tutti i giocatori della rossa con ovviamente il giudizio sul campionato che la formazione del tecnico Tedino e del presidente Iachini ha disputato fino a questo momento diciamo lo dicono un po' tutti lo dicono i numeri di questa stagione fino a questo momento un po' al di sotto delle aspettative parliamo anche di ciclismo un'edizione da applausi per il Gran Premio Abmol parliamo di ciclocross Ancarano va infatti in archivio la manifestazione che ha premiato i nuovi campioni regionali oltre 200 sono stati i partecipanti le regioni del centro-sud Italia tutte rappresentate vedete in questo dettagliato articolo tutti i vincitori i campioni regionali 2019-2020 abbiamo il tempo anche di parlare di basket lo facciamo grazie a quest'articolo che si trova nella parte bassa della pagina che riguarda il campionato di serie B maschile di pallacanestro parliamo in questo caso del Giulianova la Globo Giulianova che apre l'anno con il botto perché c'è un importante arrivo nella formazione Giuliese si tratta di Amar Balic il 23enne playmaker arriva in Abruzzo dalla serie 1 bosniaca e da lunedì sarà a disposizione scusate e già a disposizione da lunedì scorso del coach giallorosso Cesare Ciocca dunque un importante arrivo per la formazione Giuliese che milita nel campionato nazionale di serie B maschile di pallacanestro e siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 ringrazio Claudio Di Giacomo per la regia di questa trasmissione ringrazio voi per averci seguito l'appuntamento con Mattino 6 è fissato ovviamente per domani sempre alle ore 8 per l'informazione della nostra rete vi ricordo come di consueto l'appuntamento con la prima edizione del TG6 alle 14 grazie ancora e buona giornata grazie a tutti